Buongiorno a tutti, mi chiamo Chiara Anzi, sono laureata in biotecnologie agroindustriali all'Università di Verona. Ho 33 anni, sono sposata, ho due figli e di lavoro faccio l'insegnante. Ho conseguito un dottorato di ricerca in biologia vegetale all'Università degli Studi di Milano e ho lavorato due anni in un'azienda biotech. Nel frattempo, avendo deciso di intraprendere la strada dell'insegnamento, ho frequentato la scuola di specializzazione Lombarda. La strada per l'insegnamento era preclusa ai biotecnologi, però io ho potuto intraprenderla grazie al lavoro svolto da quelli che allora erano studenti e che poi sono diventati soci fondatori dell'Ambi che hanno promosso la dichiarazione di equipollenza tra la laurea in biotecnologie agroindustriali ad indirizzo vegetale e la laurea in scienze tecnologie agrarie. Grazie a questa equipollenza io ho potuto iscrivermi alla scuola di specializzazione. Il mondo della scuola sta cambiando e anche sta cambiando la forma di reclutamento del personale docente, per cui come l'Ambi ha seguito me nel mio percorso per l'insegnamento, così potrà seguire chi eventualmente vuole intraprendere questa professione. Vi saluto tutti e torno a correggere le mie verifiche.